musica 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 albis ha girato su stato mi chiedo se madonna se non sarebbe divertente se non gli spiegasse il puzzle vabbè andiamo al puzzle spara oh spara la nave in posta come? e? e come lo riso? ma non ho abbastanza musica 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 come si fa? ah devo muovere? ma porca ma io avevo mosso le friccette ma porca io non so fare il puzzle ok ok a sinistra ora perchè la porta in alto non si aprirà ah ah albis è qui albis qui laser blu sembra completamente insuperabile ma 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 come scienziato reale ho dei 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 trucchi nella la mia manica si lo riesce nella mia manica oh hackerà il database e mi e ah e praticamente lo spegnerà uh brava alfis ok sei identico all'altro c'erano due proiettili ok è il fratello di grilli quello la eh era uno verde sembrava assolutamente tantissimo grilli shaka a veces ancora chi se le frega glielo spiegano solamente ci devi penso che ehi riguardo al puzzle sinistra e a destra erano un po' complicati di spiegare ma ehm li hai già risolti fantastico io sto volando nel vuoto una chiamata ehi è piuttosto buio lì non è vero ehm non preoccuparti hackerò il sistema della luce e te lo illuminerò uh o no oh oh si cosa benvenuti bellezza nell'underground nello show dell'underground sulla cucina vabbè prescaldate i vostri le vostre le vostre pentole perché abbiamo un ospite veramente no a me una ricetta veramente speciale per voi oggi noi oggi faremo una torta il mio ehm così dolce assistente qui e portare gli ingredienti tutti diamogli un grande applauso oh vabbè abbiamo bisogno di zucchero latte e uova prendile dolcezza latte ah latte zucchero e uova perfetto ottimo lavoro bellezza ora abbiamo tutti gli ingredienti qui per fare una torta ok oh mio oh cavoli che momento magnifico come potrei dimenticare abbiamo dimentichiamo l'ingrediente più importante l'anima di un umano aiuto 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 pronto sono molto sono nel bel mezzo di un qualcosa io qui aspetta un secondo non puoi fare un non potresti usare un non potresti fare una sostituzione in quella ricetta? una sostituzione? di usare un un ingrediente non umano? perché? ehm che cosa succedesse se qualcuno è vegano? vegano? sì si invento dire ma che bellifica idea alfis in verità ho un'opzione proprio qui cosa? proprio un sostituto di un animo umano in polvere ah che è proprio lì su quella dispensa beh figlio perché non vai a prenderlo? andiamo a prenderlo comunque il nostro show ha una regola restrittiva se non puoi ottenere il palazzo nel prossimo minuto dovremmo andare entro sul piano originale quindi ben inizio ad arrampicarsi bellezza come è arrampico? o no? non c'è abbastanza tempo per arrampicarsi fortunatamente potrebbero un piano quando quando ti stavo pregridando il tuo telefono ho aggiunto qualche nuova opzione vedrai un bottone grosso che dice jetpack guarda quello no ho un jetpack roma ho un jetpack in undertale ecco dovresti avere abbastanza abbastanza caldo per arrivare in cima adesso raggiungilo cosa? perchè sta succedendo tutto questo a me? cosa? ma qui faccio allora posso andare anche di daffo al bagno non lo sapevo aiuto metto il tuo bilancio di ingredienti addosso parca miseria aiuto non lo sapevo è un 3 no 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 lo dice i secondi oh ce l'ho fatta mai mai sembra che tu mi abbia battuto ma solo perchè tu hai avuto l'aiuto della brillante brillante dottor alfis Non voglio capire se è dottoressa Ma forse un doctor è indifferente Forse potrebbe essere dottoressa in sala dottoressa Mi chiedo cosa sarebbe successo senza di lei Beh Oh si Riguarda la sostituzione Non hai mai visto uno show di cucina prima? Ho già cucinato la torta E' vero la cucina non è sempre prima Quindi dimenticatelo Oh porca miseria Non era così basso Wow Beh Ce l'abbiamo fatta Noi siamo Ce l'abbiamo davvero fatta Grande lavoro Lì Beh Comunque Continuiamo ad andare avanti La struttura La struttura gigantesca Ti riavvide di mezzo Vedi quel Vedi quell'edificio Nella distanza? Quello è il nucleo La sorgente di potere Di tutto il sottosuono Converte L'energia geotermica In energia magica Per Comunque E' lì che stiamo andando Nel nucleo c'è un C'è un Ah c'è un ascensore Che porta direttamente Che è stato di Asgore E da lì Puoi andare a casa Guardate l'immagine dietro Che è distrutto dal Carole Bellissimo Ascensore Left floor Right floor Non lo so Ok Osserverei Beh Non ho detto Sono It's Flamesman Ricordami il nome Shensh Ho ritrovato Shensh E' Scensazionale Che battuta Di mezzo Puoi comprare Un hot dog 30g Si Grazie ragazzo E' con il tuo hot dog Si No apostrofo dog E' Afostrofo dog E' più corto Di hot dog Ma perché Vabbè ho preso Due hot dog Da sense Alphys ha postato Una Una immagine Pranzare con la fidanzata E' Alphys Ha postato Un'immagine Cenare con la fidanzata Ma è un'immagine Di una ragazza Gatto Vicino a un piatto Di noodle Cos'è Questa cosa HIT TIME Caldo caldo Più caldo Più caldo Più caldo Oh mio dio Com'è Ah Devo Ma porca miseria Pyro Vuole più Al Più caldo Vuole più caldo Ho Ho mangiato Un hot dog E ho sentito Abbagliare No Porca miseria Vuole più caldo To' Più caldo Oh mio dio Fa super caldo Ma cosa L'ho rischiata Roma Cool Skeleton 95 Papyrus Stiamo postando Foto hot Ed ecco il mio No sense Ecco il mio amico freddo E' una foto di papyrus Che si I bici Mi stanno LOL Cuscaleton 95 Quello era Uno scherzo Vero? C'è un punto di salvataggio Qui No non c'è No non c'è Sono tornato dietro E sto per morire male Spero di non morire male Oh mio dio Cuscaleton 95 L'unico scherzo qui sono i miei possenti muscoli Penso sia senso Ancora Eh no 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 Fuggi 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 Non sono uscito a fuggire Sono morto Sono morto Perfetto Porca Non perde la determinazione Come madre Va bene Compriamo ancora i due hot dog Sì compro un hot dog Sì Sì Va bene Ok Roa Sinistra o giù? Giù Napstablock 22 Che ha mandato una richiesta di amicizia Accetti la richiesta Certo Napstablock Cosa? L'abbiamo trovato? Ho trovato non so cosa Ok E ciao Qui è La dottore Selfish Questo puzzle è un po' È basato sul tempo Vedi quei pushanti Proprio lì Devi premerli Tutti e tre In meno di tre secondi Proverò ad aiutarti con il ritmo Ok Adesso prendo il terzo E ai fish Ah Ne dovevo premere solo due Che cazzo Dove devo andare? Eh ehi Andrò in bagno? Lo messo via È complicatissimo Dove devo andare? Ah no Qua mi fa tornare Ma mio Dio No aspetta Ah no Già che Ok Ok Quindi se io È così Forse ci sono No che non ci sono Ho sbagliato Non so come riuscire In realtà Sono un'ignorante Sì Non fermi Era così Semplice Ah Fish è un altro sostante Oh mio Dio Pensavo a Miu Miu Che è più bello Di Miu Miu 1 No Quello È uno scherzo Giusto? Conoscendo che Il topo Una volta Un giorno Achiederà La cassaforte Confezione Esatta E otterrà Il formaggio Ti riempie Di determinazione È sempre bloccato Al tavolo Oh mio Dio Non capisco Va bene Basta No No Grazie a tutti.